Musica La Margeride è un territorio di centina di chilometri a cavalli sui tre spartomani, Cantal, Nautoleira e Luzera. Dì la nostra emission, iniziamo al sud, a Marruèdjouls, dove si è montato un cursus pubblico d'un città della Mairala al Collegio, poi, al viola, apprendiamo a cucinare la coppetata dei certi piccoli del Cantù. E iniziamo a lavorare di Julien Delagna, a Santa Oba del Limagnolo, al cor di Margeride, lui Julien, giustamente, è svegliato al mercato per vendere sui legumes. Julien, adio, Julien Delagna, merce e plat di noi siamo prati senza un margazio, qui al mercato, e voi, se sei, qu'è la settimana, è d'accordo, per vendere vostra produzione? Oh, è d'accordo, veni qu'è la settimana di marzo, da l'inizio del meso di maio, a me lo plantino, da tutto il sango, a me lo legumes, qui, per vendere, lo legumes. E tutta vostra produzione, è dire che sei un d'auss'rares produzione dei lieumi che c'è, qui c'è? Oh, c'è un 4 o 5 produzione dei legumes, su la Luzer e tutto, e qui, al nord Luzer, sui due sullati, a vendere, a fare i mosti legume, a los vendere sul mercato. Così se fa e che c'è il caire di Munde? Così faccio il mondo abans? Allora, giusto, come, a una produzione familiare, qui, il mondo è fanno dei legumes per tutta la famiglia, suben, lo sbiere, lo retiere, fa un dors bello, fa un metto hectare che con ha i tali legumes, e valio a tutta la famiglia, della sua vita familiale. Allora, spero che ci ne vanno tanto dei legumes per rapport al mondo che c'è, ma se d'un pays cao che c'è, non c'è un altro, c'è il cao, e se sei stagato il primo qui, in questa cantù a fare i legumi, a uben, e, bo, morti. Marcha un po' a poco presa. Voi? Cosa vai? Ha dei placi per d'autres legumiers. D'accord. Veierai insegnare d'autres caribos. Veierai in tutto a vostro borgio, vostre horto. Emmas andando a Banzaco un po' a viaggiare e incontrare un mondo dei biaissuti della margherida. Sono nascuto al viaggi, qui al viaggi, al viaggi. E io t'ho messo nascuto al viaggi, e 1928, xampallò l'un de l'altre. Avem paio troche de fressis. Tu lo vodala lo zero, coi la margherida. E'apresa che dava la l'obracco, dint l'icebenos. Lo cantucos d'ara cinchamont, dint l'utens. Ecco, a men quilomestre, o cinchamont del viaggi. Io no, no, ron, che io no peiro platos de sugri come un otiugo, e porto lo nudo e ron de l'atiugo. Allora, io ho donate il nudo che io hai mai pa. Lo ma battejat. La piramida porta a fu, io trobe che co vai pa. Lo ron del l'atiugo vai bel com'iel. Perse è che è plat come un otiugo di sugri. Allora, che ho fai ben poco come piramida in mea il camp mea. A ver... La copetata se fai jo bo al fu, mai lai fujassos. Mai lai fujassos. Mai lai fujassos. Che non aveu pa de pom d'ol. Che de ragin secchi, di prunos, che ne li tremei de l'ati. E d'aixo un dros e ci van la grossa. Voilà. E d'aixo crevanià per lo parximar. Metto il burro, copo il po, granisse tutto il fondo del plattano, un frangioio di po, metto da sopra di prunos e di raginze. Un po' di burro da sopra. E poi metto un altro cuccio di po. E metto un po' di burro. C'ha fatto un po' di burro da sopra di palacetà. E poi c'ha fatto un po' di burro, che cogua... Che poi c'è tempo miel. E lo faccio tiè di. Alla. Qui... Fogo inflame la melochezza e delle pula e delle biarrà. Ho mangiato e buono bisogno. Va. Apres metto il cuccio. che gli agrada di xicri per iò. Qui vanno i giocci con lo xicri, fa lo flan. Fa un flan con lo giocci, lo xicri e lo lato. E poi li abuja lo flan sopra il polo che ci ha colo cati. E voilà. La copetà d'espresso per non al fùs. Allora io ho pa qui metto la copetà d'espresso. Allora io ho metto la copetà d'espresso. Allora io ho metto la copetà d'espresso. Allora io ho metto al fùs, non lo faccio a l'espresso. E' presto a mangiare. Allora io ho metto la copetà d'espresso. Allora io ho metto la copetà d'espresso. e la crosta d'espresso. Cosa qui che non lo vedi. Voilà. Perché quando li planto in cutel, anche io, c'è quello saggio cagliato. C'è pa che lo l'assortio. Voilà. Cosa qui che non lo conosce. Cosa qui che non lo conoscevo del fùs. Las pesa pa, eh? Cosa. La crosta. La crosta. Cosa. La crosta. Cosa. come cucca, ben appresi a fare la copetàla. Se non metto per procederlo, se non metto de l'acqua, cos fa de copetàla, un po' va pelacona per copetàla. La copetàla coi l'uflant, che la fai bono. S'entendem bien totes, sempre avui, con tutto il vigile. Avui, per la festa del fulg che facem, è tutto il vigile, ci vedo un manco di mo'. Il vigile, come dire, un chaffa come un chaffa, un chaffa come un chaffa, lo vigile. Sua pelo, come cu, lo vigile. Noi qui dì un vostro hort, Julien, grazie per la nostra presentazione a Sant'Albano di Limagnola, in Margeride, in Luzero, tutti giù. N'aveste quanti delle terras qui sono, enti le serre, l'ordine tradizionale d'arriere, le terras? Quattro per cent, un a qui, un a un kilomètre, e due entres a 6 e 10 kilomètre e un tutto che fa un hectare e due. Sua questo parcelo hi ha uno serre di 400 m2 di produzione, e quella serre che fa un 100 m2 che servono per fare il plantio. Ho scoperto le scemenso, perché ci sono le gardo di una insulandria, ma che mai le strifo, le scemenso delle strifo. E fare il plantio che planti per fare venire i legumi, che vende i legumi, per la prima, vende un po' di plantio, anche. E a mai, voi incominate a una produzione bio? E a mai, voi incominate a un anno e migliore, ho compratto a questo bordo e a un anno e migliore, e avanti ero a un decennio di chilometri, ma ero in l'occasione e le terras che cultivavo, me le prestavo. E come ne sapeva che non c'era di morire, non c'era certificato, ma faccio di bio, ma non c'era certificato. E da un paio che è mudato, a un anno e migliore, ho causato certificato di fare il cammino in bio. Quindi sono un commercio, come si dice, e normalmente a la prima di 2019, tutta la bordo sarebbe un bio. D'accordo, ebbene a un vero l'odemai, della bordo e l'odemai dell'absplantacius. Torna l'è o a Codè Giulia, Mazzar capa a Maruèdjouls, al sud di Margerida. Allaia si trappe l'una delle tre scuole pubblico bilingue in un città di Luzera. D'un paio 2014, Luzerfani di Maruèdjouls possono seguire un'apprentissazione a mitad in francese e a mitad in un città. Alla scuola pubblica della Custarado sono in quinzenate inscritti per nivel, come a ici, di una classe di CP. Aici, in Luzer, la lingua d'Oc è a Cops ancora presente di Nuzustau, ma la maggior parte della scuola in la scuola è la scuola in classe e l'Occità ha il servizio di porta d'entrata per il multilinguismo mai lungo. La scuola pubblica della scuola è la scuola in francese e l'occità. Le materie che si fa in Enox sono diversi, sport, musica o ancora matematica. e la scuola è la scuola in francese e l'Occità. Della metà geno secsio a un CMEU, il cursus di una scuola è spaz complesso, ma sarà tralangue. per il momento è spaz acabato perché i bambini non sono ancora arrivati a la scuola in CMEU. E è una domanda delle famiglie di fare la seguida e, dopo, di fare il collega. I bambini chiedono di fare il collega, le matematica in Occità. La popularità dell'Occità se confirma al Collegio della Vila. Aqui, due ore per settimana sono preparati a cada livello e dettagliati se fargono alla nada. Iniziamo il progetto dell'anno 2029. L'idea è di fare una storia, una storia all'entura del paesaggio vostro. Iniziamo parte di una carriera, per filmare degli occhi, di Andretti. E poi, a parte di tutti quei filmi, faremo un montaggio. Sarà vostri ragazzi che metteranno in place per bastire quel film. Questa esperienza di realizzazione, a Imad Bres e la compagnia d'Ogriffe l'avion già menata, e a Cauquesanados, con i liceans di Sanchelli d'Apsè. Cristal Cos, che è il regione qui ha già lavorato, mi ha detto che ha in un bel giro di ricerca sui paesaggi, che è la temazione dei progetti academi. e quindi mi ha detto che è incredibile, noi stiamo elaborando un progetto sui Zako, che fa già mai di un anno che stiamo fare la produzione di quel film. E quindi se si andi, beh, non. La creazione dei scoli di jans sarà diffusita in fin di un anno avanti dei spectacoli del collettivo artistico. A quel momento dei progetti fanno il successo della seczione uccita. La seczione del cinema e la seczione uccita. Abbiamo bisogno di creare di una lingua per mai di una causa. Prima per la fabiore e, secondo, di segure per la rendere attrazione. L'enfant, l'os drulli, qui sa regalo di creare di una lingua. Quindi penso che è importante di lavorare di una lingua. Lo spiello è completamente e poi penso che c'è una ricchezza per che rincontra, a dire, dei professionisti, d'artisti. E qui, t'abbè, e qui con delle forze, forze ricche. Il y a dei baci sui zauberchi. A chi mu men las baci muntos sui zauberchi? E l'ai stu, è la trasmante. Penso che è la prima. Il y a trez cursus bilingui in l'OZER. L'os trez marchi ben, e poi poi a seguido al collettio. E tabè al liceo del mende, ma è un defectivo importante in un collettio di tabè a Yur. E' spazio un plomè a Marruejo. Penso che abbiamo capitato di presentare l'OZITAD come una disciplina normale, o in treverghetta. E poi la lingua regionale. E poi la lingua regionale. E poi la lingua regionale prende un città come prende un anglaese o espagnolo. La capitata della filiera uzzitana è rimarcapple, su tutta o secundari. E mai se la lingua si è sguire e trasmessa, crea da questo pass a Marruejo e in l'OZER una domanda popolare per l'insegnamento. a Marruejo e in l'OZITAD. c'è il d'Ostaz Pasquale, c'è il rio spolito, c'è il paese spolito. E poi in fine finale l'insegna di Morà per che mi ha generato che abbia tutta un fune di possibilità di se gana la vita qui. A me la vostra produzione siete membri d'un aligazio, d'una, così dire, cooperazione d'agricoltus? A qua, il y a treze anni, un po' mai di treze anni, abbiamo montato un magazin di produttura a Sancelli per che rinna d'amici produttura di differenti produttura che faccia il mercato e i mercati in Nord-Luzer sono in settimana. Allora, l'arrivo è il dimasso, l'ancelli è il dijous, ma il mondo che traballe può do passi ben incrompa al mercato di settimana. e spero che abbiamo avuto questa idea di creare questo magazin e che vivere di medio in medio. Grazie a tutti per aver insegnato il vostro lavoro e il vostro borgio a questo paese. Viro al Paese e Margeride a cosa acaba se torna a Rintrapa in una settimana all'arri sperando tenessbosfiera. Grazie a tutti.